Proprio per lanciare la rifaccia No, la rifaccia Ciao amici, ben ritrovati Se seguite Girosbronzo la page Benissimo, nell'ultimo post Trovate una challenge Sono stati raggiunti più di 200 commenti E quindi io obbedisco E quindi andiamo a svolgere questa challenge Tutto quello di cui parliamo oggi sono arance E andiamo a scoprire la loro bontà Ecco vedete, qui nasce però un piccolissimo problema La richiesta è molto particolare Infatti stiamo trattando una prova di livelli elevati Livelli difficili Livelli che solo una persona con grandi capacità motorie È in grado di portare a termine Più! E intendiamoci, io non dispongo di neanche una di queste capacità Però ci provo lo stesso E allora la prova consisterà nel mangiare le arance Senza usare le mani Ok, ma prima di cominciare Sigla! No, 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 no Scusate, mi ero dimenticato di non avere una sigla Allora, trasferiamoci In cucina! Ma prima Spesa Che qui manca la materia prima Che sono le arance Vedete, casa mia è quella lì E noi adesso andiamo al Conad Di qua Le arance sono nostre Possiamo andare a iniziare Nel frattempo ho incontrato anche Che conoscevo Che mi chiedeva Perché avessi preso delle arance Ma lo stesso, lo stesso Volevo andare al Conad E prendere solo un'arancia Però Non me la sono sentita, dai Ciao tutti, eccoci Eccoci Le arance ci sono Sono qui Questa è quella buona Queste sono per fare cena E ok È stata preventivamente lavata Covid-free Allora Allora Un po' di spazio Come mi approccio Non lo so Allora Cavo gli occhiali Sono vestito da allenamento Così Con anche Pardo Non mi sporco Ma se non mi sporco Non è un problema Allora Se no mani No hands Attenzione Non fate la casa Vedetevi Non imitarmi Il gomiti Posso usare No No Se poi proprio non ci riesci Va bene Allora Non so se sbuccia Cioè se tentare lo sbucciamento E poi Ci provo È cattiva la brutta Sentiamo È un po' amare Allora Oh Gran cacchino Se io giro Così io riesco a sbucciarmi Sì Ok Posso usare No 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 Ok Ah Pertene No No Non si Poi Allora È cattiva Oh Oh Ok Allora La tecnica rotatoria Ha dato i suoi frutti Adesso Come mi approccio O vado Cerco di separarla E poi la succhio Oppure Spoglio un po' Allora Mi tanto Mmm 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 È calda No No Che schifo Allora No Ah 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 È una parte Difficio Perché Mmm Sta bene Grazie Va bene Posso iniziare La L'assunzione Della sostanza Dai Non ti conviene Esatto No Prima a sbucciarla tutta Prima a sbucciarla tutta Se non puoi Dato come lo fai Esatto Ok Allora Va bene Lo sbucciarla tutta E anche non arrivi la mamma adesso L'amara la buccia Ciao amici Ciao Ciao Ci stiamo per fare Per il supporto saluto Atletico Ender Cesena Ti porto qui Mi prepara Adeguatamente Per queste prove So 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 Jogja Per Sì, che buona l'amica! Non c'è un po' di ragazza che prendo! Oh no! Ciao Pazza! Mamma, però Pazza, mamma! Tu spero che non vedate mai questo video Ciao a tutti Vi ringrazio Per il supporto Diffondete la parola Diffondete il video E tanti saluti Vi ringrazio Ciao! Benissimo, se questo video Raggiunge le 5.000 visualizzazioni O i 500 likes Io farò questo video Come onore Ciao! Ciao! E' una buona? Che schifo! Cosa posso dire per salutare? C'è per chiudere il video Non lo so O faccio intorno E' un cioccoliere, un poco d'aranze Puoi farlo con i mandarini? Sì La gente ti compoggia, cos'è che dice a fine video? Al prossimo video Oh, 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 oh E' un commentato E' un commentato Sì